recentemente introdotta dal nuovo codice della nautica approvato dal consiglio dei ministri la giornata del mare della cultura marina nasce per formare nuove generazioni di cittadini consapevoli del valore che il mare riveste nella cultura e nell'economia italiana al fine di accrescere la consapevolezza del mare quale risorsa di valore culturale scientifico ricreativo ed economico anche il circolo canottieri agropoli guidato dal presidente enzo mazza aderisce alla giornata dedicata al mare sono partiti infatti una serie di eventi che si sono svolti presso il porto di agropoli dalla capitaneria di porto di agropoli diretta dal tenente di vascello giulio cimmino protagonisti gli alunni della scuola elementare primaria gino landolfi che hanno visitato la sala operativa e le moto vedette della guardia costiera per poi prendere parte a delle lezioni en plein air con i pescatori locali sui vari sistemi di pesca il circolo canottieri agropoli ha dato invece ai giovani studenti delle nozioni di kayak mentre la locale sezione della lega navale italiana si è occupata di fornire ai ragazzi delle nozioni di vela le finalità sono quelle di divulgare la cultura del mare il mare spesso viene visto come luogo di divertimento per svolgere le vacanze e tutte le attività estive in realtà il mare è fonte di economia di tradizione di società quindi sul mare si sviluppano tutta una serie di usi produttivi e culturali che bisogna tramandare e portare avanti quindi è importante recuperare quel portato di conoscenze di cultura che nel tempo sono andate un po sbiadendosi ecco che il ministero ha deciso di istituire questa giornata da dedicare esclusivamente al mare l'11 aprile di qualche anno fa ci fu il naufragio della motonave aven in cui morirono diversi marittimi nel golfo di genova e pertanto si è deciso proprio di scegliere questa data simbolica per ricordare il mare in ogni suo aspetto diciamo il nostro obiettivo ormai da anni è quello di vivere il mare tutto l'anno e oggi con il tempo un po nuvoloso è una vera giornata del mare perché la cultura del mare deve essere trasmessa ai bambini e non viverla solo nel periodo estivo ma andare al mare anche fare attività spostive come la canoa come la vela come il nuoto quindi io credo che questo tempo sia ottimo per far vivere il mare ai bambini tutto l'anno noi come lega navale siamo stati siamo felicissimi di aver partecipato alla organizzazione di questa festa perché in realtà questa è la festa del mare che è stata istituita l'anno scorso per la prima volta con il codice della navigazione e la lega navale ne è coinvolta appieno naturalmente siamo felici che di aver ospitato e di ospitare i bambini perché sono loro il futuro e quindi sono i primi a dover cercare di tutelare il mare perché ce n'è tanto bisogno è una giornata molto bella oggi le associazioni che si occupano di mare quindi la canottiere alle canavale in collaborazione con la nostra capitania di porto incontra i bambini già di per sé questo è un segnale positivo perché si cerca di educarli una domanda al rispetto per il mare all'importanza alle regole e quindi è una giornata molto positiva insomma questi incontri cerchiamo di farli sempre di più di frequente anche perché i bambini devono vivere le diverse realtà della città e il porto una realtà importante che è giusto che vivono il mare una realtà importante giusto che vivono e conoscano bene bene